Va tutto bene? Va benissimo. Fai progressi straordinari. Straordinari è un parolone. Allora, perché ci fermiamo? L'esposizione prolungata all'Animus può avere... ...effetti collaterali. Ah, magnifico. Non c'è da preoccuparsi. Non hai mostrato nessuno dei sintomi. Sintomi? Quali sintomi? Decadimento cognitivo, allucinazioni temporali, problemi di consapevolezza multipla, realtà sovrapposte, cose così. Quindi mi state dicendo che... Stiamo dicendo, Desmond, che se non stai attento potresti fare a meno dell'Animus per incontrare i tuoi antenati. Il che non sarebbe un male, sempre che fossi in grado di controllarlo. Finora però, nessuno ci è riuscito. Il soggetto setici. Abbiamo delle protezioni. E loro l'hanno tenuto nell'Animus per troppo tempo, a volte per giorni. Con te staremo attenti. Lo spero. Comunque, vorrei controllare la tua ritenzione dell'abilità, vedere se hai assorbito qualcosa da Ezio. Io ci sto. Bene. Raggiungimi di sotto quando vuoi. Ehi, ottimo lavoro oggi. Hai talento. Grazie. Diventa sempre più facile. Devo dire che dopo quello che ho passato all'Abstergo, è un piacere stare dalla parte dei buoni. I buoni? Non ti allargare troppo. Che cosa vorresti dire? In caso te lo fossi scordato, Rebecca, siamo assassini. Se vuoi ti faccio un disegnino. Significa che assassiniamo la gente. Solo se è necessario. È una scelta. Tu scegli di uccidere. Io non ho ucciso nessuno. No, ancora no. Ma a cosa credi che serva tutto questo, eh? Pensi che Lucy ti stia dando le abilità di Ezio per costruire scuole in Sud America e distribuire riso agli indonesiani affamati? Cosa sei, Desmond? Vegano? Potresti essere il primo assassino vegano della storia. Senti, non è l'ideale. Uccidere qualcuno non è mai facile. A volte non c'è altro modo. A volte, Desmond, qualcuno deve morire perché le cose cambino. Ha ragione. Ma non pensare di non avere voce in capitolo. Insomma, è per questo che ci battiamo. Per preservare il libero arbitrio. Che cosa può aver scoperto il 16 da richiedere così tanta segretezza? Saperlo. Lucy pensa che riguardi il codice, ma io non ne sono convinto. Sono tutto orecchi, come se fosse un cambio di vita, come dice il 16. Potessi entrarci io nell'animus, lo scoprirei da solo. Invece, come al solito, eccomi qui, relegato a bordo campo. Che stai combinando? Che sto... ma che sei mia madre? Cerco di rintracciare le pagine del codice, per vedere se ce n'è ancora qualcuna in giro. E? Niente di concreto. Pare che ce ne sia una negli archivi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Forse altre in mano a collezionisti privati. Probabilmente templari. Manderei qualcuno a verificare, ma siamo a corto di uomini. Come ci sarà arrivato il codice in Italia? Cioè, sembra così casuale. Dante Alighieri, tramite Marco Polo. Dici davvero? Successe qualcosa nel 1321, già. Adesso sto ancora lavorando sui collegamenti. Ma per quel che posso dire, Polo conobbe gli assassini mentre era in visita da Kublai Khan. Esatto, deve essere lì che ottenne il codice. Ora, quando tornò in Italia, lo passò a Dante. Dante era in qualche modo legato a loro, se non un assassino lui stesso. Non ho idea di cosa unisse quei due, ma... Sai una cosa? Immagino che lo scopriremo. Non credo che Lucy voglia farci giocare con l'Animus. Già, hai ragione. Abbiamo già abbastanza da fare. Immagino che dovrò aspettare per togliermi la curiosità. Allora, qual è il piano? Vediamo cosa sei riuscito a conservare. Andiamo. Quelli dell'Abstergo sono là fuori che ci stanno cercando. Sono meglio finanziati ed equipaggiati, perciò prima o poi ci troveranno. Dobbiamo essere pronti per quando sarà il momento. Voglio che attivi il sistema difensivo del magazzino. Come arrivare ai sensori è affartuo. Oh, dai, nemmeno un indizio. Apri gli occhi, Desmond. Lucy, vedo delle cose. Le allucinazioni durano più di trenta secondi? No. Allora non c'è di che preoccuparsi. Allora? Come vado? Sei riuscito ad assorbire tutte le capacità di Ezio. Il tasso di acquisizione è fantastico. Un paio di giorni avremo finito. Ok, adesso dimmi. Perché Ezio? Perché l'Italia? Cioè, non potevo tornare a impersonare Altair? Seguirlo nei suoi primi anni? Tutto è iniziato col sedici. Ah, il buon vecchio soggetto sedici. Mi ha ritinteggiato la stanza. Col suo sangue. Avevo esaminato il suo incartamento. Vidic aveva evidenziato un paio di sessioni dell'Animus. Un gruppo di antenati diversi, date e luoghi differenti. L'antica Africa, il Medio Oriente. Ma verso la fine, divenne ossessionato dall'Italia. Credo che sapesse della cripta. Mancano alcune delle sue ultime sessioni dell'Animus. E le sessioni che ci sono... Dopo tutto quello che i Templari gli hanno fatto. Dopo tutto quello che io gli ho fatto. È tutto confuso. Se non avessimo forzato la mano col sedici, avremmo già le risposte. E forse lui sarebbe ancora vivo. Quindi cercate sia il codice che la cripta. Sapevo che avevi un antenato in Italia che era al centro di tutto questo. Qui, Desmond. Ehi! Di qua! Va bene, penso che per oggi basti. Dovresti riposarti un po'. Lucy, quel che è successo al sedici non è colpa tua. Eri una prigioniera tanto quanto me. Grazie. Buonanotte, Desmond. È bello averti qui. Eri una prigioniera tanto quanto mi ha fatto. Ma che cazzo? Che succede? Dove sono? È... è Acre? È Altair? Come di ora? Non sono neanche nell'Animus. Devo essere svenuto. Ho fatto un sogno strano. Era un bel pezzo. Quello deve essere il suo bersaglio. È... 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 Grazie a tutti. 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 Questo è un sogno assurdo. Scusa l'invasione, ma si sta facendo tardi e ci stavamo. Ehi, stai bene? Sì, sì, tutto bene. Strani sogni, tutto qui. Va bene. Lascio che ti prepari. A dopo. Ah, gentile unirte a noi. Scusate, scusate. Scusa tanto se richiamo qualcuno al proprio dovere. segni di... segni di... segni di... segni di... segni di follia? Sean, per favore. Va bene. Scusa, per favore. Grazie a tutti.